Bentrovati sul canale, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche. Oggi giornata di partita per la seconda squadra, la NECGEN scenderà in campo contro la SPAL allo stadio Moccagatta di Alessandria, struttura che ormai per la sesta stagione consecutiva utilizza per le gare casalinghe. E' una partita importante contro una squadra che è stata allestita per tornare in Serie B con un organico davvero di primissima linea. E il direttore sportivo è una vecchia conoscenza della Juventus perché si tratta di Filippo Fusco, ovvero colui che nel 2020, capo della seconda squadra a bianconera, riuscì a vincere la Coppa Italia di Serie C. Quella squadra era allenata, lo ricorderete, da Fabio Pecchia, insomma è l'unico trofeo della brevissima storia della seconda squadra della Juventus. E' una partita che potrà sicuramente dare delle indicazioni importanti per il proseguo della stagione. E' stato un inizio un po' difficile quello dei ragazzi di Brambilla. Sono arrivate due sconfitte, la prima sul campo del Pescara, la seconda sul campo del Rimini. C'è una partita ancora da recuperare, però insomma contro la Spal non sarà facile, ma bisogna andare alla ricerca dei primi punti della stagione del campionato. Sarà una partita che vedrà tra i protagonisti Kenan Ildiz, perché il giocatore è stato convocato da Massimo Brambilla, così come Dean Uisen, tutti e due arrivano dalla prima squadra, sono aggregati al gruppo che lavora, gli ordini di Massimiliano Allegri, e sostanzialmente perché si dà la possibilità al ragazzo di tenere alto il minutaggio in questa settimana, considerato che non ha preso parte all'ultimo match contro la Lazio dopo aver debuttato nella prima giornata di campionato, lo ricorderete contro l'Udinese, e aver fatto minuti anche nelle partite a seguire. Kenan Ildiz sicuramente ha la possibilità di aumentare il livello della seconda squadra, così come Dean Uisen in questa prima fetta del campionato ha sicuramente dato manforte al reparto difensivo. Poi la verità è che è cambiata tanto la squadra a disposizione di Brambilla, serve ancora andare ad oleare determinati meccanismi, serve del tempo, serve della pazienza, serve anche la possibilità di commettere qualche errore, insomma il progetto seconda squadra poi lo conosciamo, quindi insomma serve solo ed esclusivamente pazienza, non serve esaltare troppo il percorso di crescita di questi ragazzi, serve tenerli tranquilli il più possibile, ormai la Juventus ha l'esperienza necessaria per gestire davvero nel migliore dei modi ognuno dei suoi talenti e stiamo vedendo poi come i frutti stiano cominciando ad arrivare anche in maniera consolidata, perché se andiamo poi a vedere l'utilizzo che Massimiliano Allegri sta facendo di quei giovani che sono arrivati da un percorso in seconda squadra, ci accorgiamo come trattasi ormai di titolari o comunque potenzialmente titolari. È curioso il ballottaggio che ormai si presenta da inizio stagione tra Fagioli e Miretti, Miretti che sembrerebbe avere un leggero vantaggio su Fagioli nelle scelte iniziali del tecnico, forse anche perché questo nuovo modo di giocare della Juventus si può appoggiare meglio alle caratteristiche di Miretti, a differenza di Fagioli che riesce a far palleggiare meglio la squadra. Lì in mezzo al centrocampo può sicuramente tornare utile spesso e volentieri nel corso delle partite quando la Juventus ha da gestire un determinato vantaggio. Poi capiremo l'evoluzione della stagione, capiremo se effettivamente Miretti continuerà ad essere il titolare e capiremo se Allegri vorrà continuare a utilizzare Fagioli da mezzala o come disse l'anno scorso, proprio in questo periodo, comincerà a proporlo anche da regista anche se qualche settimana fa ho fatto una diretta domanda a Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla possibilità di vedere Fagioli nel ruolo di regista mi pare abbia ancora preso tempo ma credo soprattutto perché il giocatore arriva da un'estate in cui non ha potuto lavorare al 100% in preparazione atletica perché aveva ancora da risolvere un problema fisico a seguito di un infortunio alla spalla. Ad ogni modo credo il percorso di Fagioli sia in evoluzione me lo aspetto di tanto in tanto anche nel ruolo di regista fermo restando che anche Locatelli sta dando tanto e sembra un giocatore in crescita sul quale si può sicuramente fare affidamento non solo nel presente ma anche in futuro Locatelli che tra l'altro è tra quei giocatori che presto potrebbero sedere al tavolo della trattativa con la società al fine di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto darebbe anche questo la possibilità al club di abbassare leggermente la quota annuale di ammortamento di fronte alla disponibilità del giocatore di abbassarsi leggermente l'ingaggio e spalmarlo in più anni Locatelli che tra l'altro è arrivato alla Juventus dal Sassuolo prossima avversaria della formazione di Allegri si giocherà sabato a Reggio Emilia in quel momento lì attorno a Locatelli c'erano anche club importanti della Premier League ma il giocatore si è sempre palesato Juventino ha voluto fortemente la maglia bianconera e oggi obiettivamente sembra tra quei maggiori riferimenti all'interno del gruppo squadra se guardiamo soprattutto a chi può diventare un senatore nel futuro prossimo Locatelli è sicuramente uno degli esempi di Juventinità che sta prendendo forma all'interno del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri ci sono tante indicazioni che dovranno arrivare nel corso di questa sera dalla partita della seconda squadra Comenenzia è un giocatore che è arrivato da esterno destro in realtà lo stiamo vedendo da mezzala e anche questo credo sia molto curioso perché in prospettiva può sicuramente restituire la percezione di un giocatore che ha sicuramente una grande prospettiva nella Juventus Juventus che in questi giorni di impegni europei per le altre purtroppo la Juventus è fuori dai giochi sarà presente in giro per campi Giuntoli e i suoi più stretti collaboratori andranno a monitorare diversi profili nell'idea di individuare qualcuno che possa fare al caso proprio già nella sessione di gennaio questo è un aspetto importante credo la Juventus stia valutando la possibilità di sostituire Pogba già nel mercato invernale nel mercato di riparazione credo la scelta ultima sarà fatta quando si avrà la reale percezione di quello che è il campionato della Juventus Allegri ha sempre rimandato al 30 di dicembre come data ultima per capire se effettivamente i bianconeri saranno in corsa per lo scudetto o meno nel frattempo però la dirigenza si mette nelle condizioni di capire chi sono i giocatori che potrebbero fare al caso proprio già nel corso di questa stagione occhio ai movimenti di giunto in questi giorni perché si sta cercando l'erede di Pogba due nomi sul taccuino ce ne saranno molti altri però su due nomi possiamo sicuramente cominciare a fare delle valutazioni il primo è quello di Diarrà dello Strasburgo lo Strasburgo chiede 20 milioni il giocatore classe 2004 la Juve lo ha già valutato nell'ultima estate l'altro è Cone del Borussia Mongeglabac stiamo parlando di un 2001 ha meno prospettiva rispetto a Diarrà ma un giocatore che potrebbe comunque dare garanzie grazie a tutti